Questa è Vincenzo, il mio figlio, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se non do pari, va in galera, e lui ha pagato, maledette. Ecco, vedi, questi invece annunzi abitano vicino a me, non hanno consegnato un pacco dicendo che la figlia doveva anticipare subito i soldi, ovviamente corregge in cascata, e nel pacco non ce l'hanno rubato. Questo è qualcosa che a me mi fanno, capito? E questo sono io, sai che hanno telefonato pure a me, hanno detto c'è una fuga di gas, io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non le sentiamo tante di stare così, per fortuna alcune hanno lieto finito. Beh, è quello che dico io, l'importante è che uno pensi, questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112, noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? Oh, aprite bene gli occhi, ecco, 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 ecco.